Ora guardiamo quelli che sono gli interventi speciali per i lavoratori del turismo e in questo caso è stato previsto un intervento speciale per i lavoratori stagionali del settore del turismo nel periodo di disoccupazione che va da maggio 2015 a dicembre 2015. Questo intervento è un intervento previsto solo per questo anno e riguarda quei lavoratori che sono occupati con contratti stagionali. Infatti se la durata della NASPI spettante per il lavoro prestato nel periodo maggio-dicembre fosse inferiore ai 6 mesi, per calcolare la durata del trattamento vengono considerati anche quei contributi figurativi che hanno già dato luogo a derogazione di altre prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e mini-ASPI negli ultimi 4 anni. Quindi questa è una tipologia che è solo ed esclusiva per i lavoratori stagionali del settore turismo. Anche in questo caso sono previsti i requisiti, quindi la disoccupazione involontaria, aver maturato nei 4 anni precedenti l'inizio della disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo o equivalente nei 12 mesi che procedono all'inizio del periodo della disoccupazione. Si richiede, come abbiamo già visto, facendo la domanda telematica all'Inps 20 o 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Lo ricordo, la domanda telematica può essere fatta tramite il portale dell'Inps, accedendo con il PIN necessario fornito oppure andando ad un ente di patronato. L'erogazione anche qui avverrà dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Ora andiamo a vedere quelli che sono gli interventi dell'ente bilaterale turismo toscano in materia di sostegno al reddito. L'ente bilaterale turismo toscano ha recepito quello che è previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro del turismo di confcommercio, quindi all'interno del contratto c'è proprio un capitolo dedicato agli enti bilaterali alle loro attività e in questo caso al sostegno al reddito. Quindi sono dei contributi che vanno ad aggiungersi a quelli che abbiamo già visti. Quindi l'ente bilaterale interviene in caso di sospensione dal lavoro a causa di crisi aziendali, sospensione del lavoro a causa di ristrutturazione aziendale, licenziamento di personale a tempo indeterminato. Quindi in questi casi il contributo dell'ente bilaterale è pari al 20% del costo del personale per un massimo di 6 mesi, chiaramente delle ore di sospensione dal lavoro. È un servizio erogato solo ed esclusivamente ai lavoratori di aziende iscritte all'ente bilaterale del turismo toscano. Negli ultimi mesi purtroppo è emersa la necessità di creare un fondo anche per quelle aziende colpite da calamità naturali che hanno interessato, ripeto, purtroppo la Toscana negli ultimi mesi. Quindi è stato creato un fondo ad hoc per quelle aziende che hanno avuto danni strutturali causati da alluvioni o altre calamità naturali. In questo caso il nostro ente interviene con un contributo pari al 20% dei costi sostenuti con un massimo di 5.000 euro. Quindi chiaramente ci deve essere la certificazione dei danni subiti da parte dei vigili del fuoco, di un'assicurazione, le fotografie di quanto è purtroppo successo e le fatture con le quitanze per dimostrare appunto sia i danni subiti che le spese sostenute per ripristinare le attività. Siamo giunti alla fine di questo corso, però mi preme ricordare che la normativa in materia di sostegno al reddito e ammortizzatori sociali è in continua evoluzione, quindi invito chi fosse interessato a visitare il sito dell'Inso del Ministero del Lavoro. A questo punto puoi rivedere i video per ripassare i concetti che abbiamo già analizzato oppure andare direttamente al test finale, superato il quale hai la possibilità di richiedere l'attestato. Inoltre se sei un utente registrato al portale di incontro domanda offerta lavoro www.turismolavoro.it ricorda che la sua formazione verrà registrata sul tuo profilo con un marco di qualità e BTT. Buon proseguimento! Grazie a tutti!